ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi facciamo le scarpe e le gambe di bambola matilda andiamo a procurarci un cartoncino perché ci servirà per ritagliare le due suole appunto in cartone che andranno poi inserite nella scarpina prendiamo una delle suole che abbiamo fatto e con una birra facciamo il contorno ritagliamo e con la sagoma che abbiamo ottenuto andiamo a farne una seconda uguale questo è un cartoncino del riso va bene quello della pasta per dare l'idea di come deve essere il cartoncino andiamo a sovrapporre le due suole all'uncinetto che abbiamo fatto tenendo la suola marrone verso di noi di questa suola marrone prendiamo solo la stanghette esterna e andiamo ad unirla alla suola arancione prendendo il punto basso così come si presenta quindi con tutte e due le stanghette una volta che siamo arrivati a circa metà della chiusura delle due suole andiamo ad inserire la sagoma di cartone proseguiamo poi andando chiudere il giro con un punto bassissimo a questo punto andiamo a fare un giro completo di con l'arancione andate a contare i punti in modo tale che siano uguali per l'altra scarpina che andremo a fare ci agganciamo con il colore giallo e qui proseguiremo per circa cinque giri dico circa perché volendo potete farne 4 potete farne 6 andiamo a vedere 1 2 3 4 5 cerchiamo la metà mettendo a barchetta la scarpina ora andiamo a contare 8 punti che fermeremo con un marker ed altrettanti 8 che fermeremo con l'altro marker in pratica questo sarà il davanti della scarpina e qui faremo le diminuzioni mentre invece questi punti rimarranno fissi ora siamo all'ultimo giro una diminuzione un punto basso una diminuzione facciamo tutto il giro dobbiamo avere 24 punti che sono la circonferenza delle gambe prima di proseguire con le calze vi faccio vedere questa lavorazione che è molto graziosa stiamo lavorando sulla suola marrone quindi nella parte sottostante la scarpina e vi ricordate il punto che non avevamo lavorato il punto basso qui vedete mi sono agganciata con il giallo e facciamo un giro di punti bassi poi naturalmente arrivato alla fine del giro chiudiamo con un punto bassissimo come al solito e faremo sparire i fili di lavorazione all'interno facciamo l'ultimo giro della nostra scarpina prendendo l'asale esterna lasciando libera quindi quell'interna che ci servirà per agganciarci con il bianco e fare la calza quindi facciamo tutto il giro in questo modo e andremo a proseguire prendendo i punti bassi normalmente per la lunghezza che decidiamo noi che preferiamo vedete io l'ho fatta così adesso siamo all'ultimo giro e prendiamo la stanghetta esterna sempre lasciando libera con l'interna in modo tale che poi ci possiamo agganciare con il filo del colore pelle per proseguire fare le gambe i punti sono sempre 24 mi raccomando contateli sempre perché cerchiamo di fare le gambe il più possibile uguali proseguiamo facendo il penultimo giro a punti bassi e creiamo un motivo nell'ultimo facendo un punto basso 3 catenelle saltiamo una maglia di base ci agganciamo con un punto basso ripetiamo la sequenza per tutto il giro adesso agganciamo il colore pelle nell'asola che non abbiamo lavorato come avevamo fatto precedentemente una volta che abbiamo agganciato il colore andiamo a fare il nostro giro di punti bassi fino all'altezza desiderata siamo arrivati al termine di questo filmato spero di essere stata chiara se non lo fossi stata chiedetemi tramite i messaggi vi ringrazio per l'attenzione vi aspetto proseguiremo la nostra bellissima bambola iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e lasciatemi like vi abbraccio ciao a tutti